La pasta, la richiesta dei formati sulla pasta va sicuramente su una ricerca di formati speciali, ma vedo con piacere, dalle esperienze che abbiamo con molti chef, anche un ritorno al passato, quindi non solo la ricerca di nuovi formati, dalle forme particolari o trafilati in maniera particolare, ma anche un ritorno al passato. La settimana scorsa ho avuto modo di confrontarmi con una bravissima chef che mi ha scelto un formato che ad esempio nelle zone dove principalmente operiamo non viene utilizzato, che è un ditalino. Ditalino, questo formato che ti evoca l'emozione, ti ricorda la nonna quando andavi a mangiare la zuppa della nonna, viene reinterpretato magistralmente da degli chef che ti ripropongono questo piatto che è pura emozione, perché nel momento in cui lo mangi senti il ricordo della piacevolezza del fine settimana con i tuoi genitori o comunque con quelli che sono i tuoi ricordi del passato. Poi è altrettanto vero invece che ci troviamo a dover affrontare richieste di formati che devono essere, non dico ancora sviluppati, ma che comunque ci stimolano a studiare nuovi formati, nuove tipologie, nuove trafile. Stiamo testando in questo periodo una trafila che andrà a replicare un soggetto architettonico che non è contemplato nel mondo pasta, ma che comunque vedrà l'interpretazione di uno chef in un piatto studiato ad hoc per quel tipo di formato. Se parliamo della pasta reidratata, è una tecnica di cottura, non è la cottura della pasta. La pasta cuoce in abbondante acqua salata, come ci hanno sempre insegnato. La reidratazione è una tecnica di cottura che ci permette di lavorare la pasta in una maniera diversa. Quindi io posso andare a trasformare la mia pasta secca in una pasta fresca. Quindi il procedimento non fa altro che reidratare, quindi immettere acqua nella pasta per portarla alla sua origine. Quindi come se venisse presa al di sotto della trafila nel momento in cui viene estrusa. La reidratazione può essere però anche un processo che mi permette il riutilizzo in cucina di quelle che sono delle basi, delle preparazioni. Cerchiamo la sostenibilità, cerchiamo di avere meno spreco possibile nella nostra cucina. Quindi la reidratazione potrebbe essere semplicemente anche la volontà di recuperare un brodo di pesce che non avrei utilizzato. Quindi io reidrato la pasta in questo brodo di pesce freddo e la pasta andrà ad assorbire il sapore che il brodo stesso aveva. E quindi potrò realizzare un piatto riutilizzando un prodotto che ho utilizzato per un'altra preparazione. Quindi diventa anche sostenibile e di rispetto per quelle che sono poi le preparazioni e il consumo dei prodotti all'interno di una cucina. La pasta del futuro sarà buona.